Ecco qua la mia bella tortina, tacchete, 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 e proviamo la crostatina, vediamo il cuore a metà? Eccola qua, cuoricino, 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 buona colazione, il cappuccino è pronto, aspetta che gli do la tua porcincina, aspetta eh, lo facciamo così, ti metto due briccioline qua, impostiamo un po' la torta in su, vediamo un po', va bene, due briccioline, buona, buona, è il suo gradimento? Intanto che Tata mangia il suo bocconcino, io mi verso il mio caffettino, e fa qui, buona colazione, noi siamo in ferie. Ok?